Signore e signori a tutti voi all'ascolto, bonjour! Come siamo? Oggi è il primo di febbraio del 2023, stiamo andando al parco. Grazie a tutti! 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 Siamo venuti oggi per la prima volta nel parco Disneyland e andiamo a rifare Star Tour! Grazie a tutti! 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 Ma dai perché io faccio bene e tu invece sei bravo! no Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Il cuscino, che è carino, è bello però effettivamente, costa 30 euro. Molto carine queste matite, però ci stavamo chiedendo, la gomma come si usa? Ma soprattutto, 6 euro una matita? Ma piegare da grafite è un miracolo! Ho capito, ma... Calamite! 6 euro? 6 euro tutte, mi sa! Che bellino Sven! Un po' meno bello il prezzo! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Bello però la fila d'attesa così, eh? Completamente vuota! Abbiamo la barca tutta per noi! Un giro romantico! Una visuale diversa dei droni! Perché in teoria bisognerebbe vederli davanti al castello, noi tecnicamente siamo dietro al momento! Vedi, questo si vede anche da qua! Sì! 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 I droni sono molto più bassi dell'aereo! Sì! 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 C'è il libro di gusto che però non è un libro di cucina, cioè è un quaderno dove poi ci scrivi le tue ricette! 16 euro per un quaderno! Ok! Mioi! E' un regalo! Sì! No loro dimmi! Sì! 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 anzi vediamo appuntamento a domani ciao ciao